buongiorno ragazzi mancano circa sessanta iscritti datemi una mano ad arrivare a diecimila iscrivetevi al canale è tutto gratis ed attiviamo la campanellina condividete il link del canale per far iscrivere i vostri amici interessi nei vostri gruppi whatsapp telegram facebook ovunque questo canale merita di arrivare a diecimila anche perché tutti i contenuti sono accessibili a chiunque non si paga nulla come non si paga nulla per far parte della nostra chat per chi volesse entrare scansionasse il code è gratis qui non ci sono gruppi gruppetti se paghi cinque euro diventi fagiano se paghi dieci euro diventi un piccione viaggiatore e se ne paghi venti diventi un cinghiale qui eh siamo tutti uguali siamo tutti tifosi tifosi dell'inter io per prima che non mi reputo io per primo che numero che non mi reputo nemmeno youtuber io sono un tifoso dell'inter come voi quindi scansionate il code se volete far parte della chat whatsapp di che sono i dati ci sono delle regole da rispettare abbiamo deciso di dare accesso libero a tutti per ancora qualche giorno quindi fate voi la tolgo boom come fanno quelli bravi marotta presidente è vero io l'ho criticato molto ma è anche vero che nell'ultimo mese gli ho fatto i complimenti perché a me piace così marotta aggressivo eh ma se va via zang marotta va via non avevano capito che marotta qualora fosse andato via zang sarebbe rimasto fino al 2030 perché marotta eh ha anche detto che potrei rimanere al di là del duemilaventisette lo fanno presidente ad oggi è il nuovo presidente dell'inter complimenti Beppe tra l'altro permettetemi una una parentesi sempre verso il reverendo caro reverendo e cancelli video perché tanto spari solo delle fake news in questo canale l'ultima l'ultima live con Effenberg e l'avvocato Pierre quindi ti sto dicendo una cosa che ha detto un legale l'avvocato Pierre poi dopo Effenberg a ruota eh loro praticamente illustrarono anche l'ipotesi eh ipotesi che ottri poteva esclusere il pegno quindi esclusione del pegno quindi non hai nulla su cui attaccarti caro reverendo sei alla frutta sei al rantolo ormai non ti segue più nessuno nemmeno il cane ti segue ormai se lo ami c'è la live qui è la live ancora online Effenberg l'ultima live con Effenberg e l'avvocato Pierre l'avvocato Pierre ripeto ed Effenberg in seconda battuta illustrarono e come la possibilità dell'esclusione del pegno da parte di Oktri e come se la illustrarono a me è vero che a me mi se a me sembrava difficile ma loro disse no non è difficile va presa in esame come quindi caro reverendo tieni l'orsetto di Suning non rompere i coglioni tieni non dormi più te da quando non c'è più il cinese tieni ti ti regalo l'orsetto di Suning almeno dormi te lo metti accanto lo opri e dormi insieme all'orsetto di Suning facciamo sì quindi per fare il presidente dell'Inter per fare il presidente serve una persona scaltra capito serve una una persona che eh riesca a dare una certa libertà d'azione sottoposti e quindi Marotta lo fa benissimo questo eh noi avevamo sempre in live questo con Alessandro G avevamo anche illustrato un possibile eh diciamo passaggio ponte con presidente Marotta una soluzione provvisoria in attesa degli arabi perché ormai lo abbiamo abito tutti che gli arabi acquisiranno il club da Oktri e Oktri non starà all'Inter tre anni e nemmeno due secondo me ci starà molto ma molto poco quindi eh Zanetti era una scelta molto affascinante però troppo buono Zanetti serve gente come Marotta parliamoci chiaro dipendentemente dalle simpatie o o o o o o dalle o dalle antipatie e ripeto noi l'avevamo detto e poteva rappresentare una scelta una soluzione ponte quindi è un'ottima strategia di Oktri eh in attesa della cessione agli arabi fare presidente un uomo di calcio e di politica quindi un uomo sempre presente un uomo del settore con tante conoscenze la Marotta lì che si va bene con la Marotta lì che gestisce lui e tutto quello che che mi pare a voi per quello riguarda il bond di Oktri si sta ragionando tantissimo sul bond di Oktri Oktri potrebbe tranquillamente cambiare le garanzie del bond e portarlo avanti anche perché agli investitori cambierebbe poco o nulla poi tra l'altro ora se no eh cioè tifosi capital tifosi capital ehm allora stabilità operativa e finanziaria dell'Itra proposto la nomina dei seguenti nuovi membri del consiglio di amministrazione eh allora ehm praticamente tifosi capital è nel questa seguila bene iscriviti al canale ma questa seguila benissimo seguila bene tifosi capital raccoglie equiti nei passaggi di proprietà tifosi capital capital chiamalo come ti pare raccoglie equiti nei passaggi di proprietà quindi da non è che da valenza ancora di più al fatto che Oktri sarà di passaggio e anche un di passaggio veloce ci siamo spiegati ci siamo capiti mi sono spiegato mi sono capito hai capisciuto saluto Hermes che mi sono scordato ciao Hermes saluto poi lo dirò tuo figlio quello che mi ha chiesto gli risponderò oggi pomeriggio quindi un bacione a Hermes saluto anche Fabrizio Nicoli del Salento assomiglia a Fabrizio Nicoli del Salento quindi ragazzi tutto procede come deve procedere ripeto non sarà un mercato faronico ma sarà un mercato oculato ma eh ci eravamo abituati dobbiamo fare gli ultimi gli ultimi sacrifici per poi non arrivare a comprare giocatori da duecento milioni ma per potere avere un potere d'acquisto importante perché Oktri farà tutte scelte oculate e mirate sembra e subbento eh abbiano mollato un attimino perché vogliono vedere se eh possono prendere un altro portiere vediamo quello che succede io sono contento sono fiducioso e sono tranquillo mi sento bene ora da quando non c'è più cinese io sono io l'Inter la sento ancora più mia sono rinato come tifoso da quando non c'è più il cinese perché io non guardavo solo la palla entrare dentro io sono rinato sono tranquillo e ho fiducia in queste persone dai ciao a vite